Ok, salve a tutti, video un po' diverso, qui parliamo di finanza personale e in particolar modo vi volevo parlare di una DAP che è uscita sulla Kronos Chain, cioè la blockchain decentralizzata dell'ecosistema Crypto.com per chi magari era un utilizzatore della piattaforma centralizzata Decrypto.com e volesse passare nell'universo diciamo decentralizzato delle DAP, delle chain smart e dell'ecosistema diciamo non centralizzato della finanza Crypto. Quindi ipotizziamo, ora vi faccio vedere tutti i passaggi in mobilità tra l'altro, quindi tramite il cellulare, da fare la semplicità con cui si possono chiedere in prestito dei fondi fondamentalmente. Immaginiamo di voler prendere 400 dollari di cro, quindi 620, va bene, io li voglio comprare in fiat wallet, quindi vado banalmente a comprare 620 cro dalla piattaforma Decrypto.com Usando magari il fiat wallet che tramite un bonifico lo fate arrivare alla piattaforma. Lo compriamo, chiaramente non ci sono tassi su questa transazione, come non ci sono o sono veramente trascurabili le fisse per il trasferimento dalla chain, questa qui normale di cro a quella decentralizzata. Sono già apparsi cro, 400 dollari, 620 cro in questo caso, ora è solo per farvi un esempio. Poi andrò a definire una strategia più particolare. Cosa facciamo adesso? Questa è sulla piattaforma centralizzata, cioè io ho convertito euro acquistando cro. Ora io lo devo trasferire, quindi faccio withdraw, nel DeFi wallet sempre di Crypto.com che potete scaricare. È un portafoglio decentralizzato, parzialmente decentralizzato, di cui voi tenete i codici, come posso dire, i seed per recuperare il portafoglio, collegare il portafoglio con altre piattaforme. Quindi voi siete detentori delle vostre key, le key del portafoglio. In questo caso ne vogliamo portare i cro che abbiamo comprato nella Kronos Chain. E quindi andiamo a selezionare il network Kronos. Trasferimento, withdraw, nella Kronos, i cro che abbiamo comprato, però ho solo quelli per farvi l'esempio, l'autenticazione. Scusate, e andiamo quindi a vedere il wallet decentralizzato, sempre l'applicazione che potete scaricare tranquillamente, e si ha ricevuto i cro, appunto. E' un processo molto veloce, ed è uno dei vantaggi più importanti. Come vedete già apparsi 414 dollari di cro, 681 cro. Quindi noi adesso abbiamo questi cro nella Kronos Chain, che è questa qui. Se andiamo a selezionare d'app, vediamo, cioè ci sono queste. A noi io volevo presentare Tectonic, che è appunto abbiamo detto Market Maker. Significa appunto che usa questi servizi di prestito, di cripto, e la possibilità di fornire liquidità. Chiaramente avendo indietro degli interessi. Ora, la piattaforma ci stimola a utilizzare la piattaforma. Quindi, come vedete, se noi andiamo a depositare cro, abbiamo, per prendere in prestito, un borrow IPA del 5%, come aumento, perché il nostro debito chiaramente aumenta nel tempo, di un 5,11% l'anno. E ci viene però, come stimolo, a utilizzare la piattaforma, distribuito un 44% di Tectonic, che è la moneta di questa piattaforma. Ora, detto chiaramente, per ora, Tectonic ha poche applicazioni, se non nella WWS c'è un paio di liquid pool. Ma, in realtà, non so se uno, fondamentalmente, finché non ci saranno delle applicazioni più concrete per questo token, non lo so se conviene tenere un portafoglio, ma possiamo farci cosa ci pare, fondamentalmente. Possiamo scambiarlo, possiamo... Poi andiamo a vedere comunque le varie pool che sono disponibili nelle piattaforme. Allora, in questo caso, io vedo supply, invece, cioè noi forniamo, per fornire liquidità, ci viene pagato un 3,65% in cro, più un 35% di interessi, più un 35% di 18% di tonic, sempre di interessi, fornendo la liquidità. In questo caso, noi andiamo a fornire la liquidità che abbiamo scelto, 621 cro. Chiaramente, c'è un piccolo... Ah, e poi, no, secondo me, che volevo vedere insieme a voi è il loan to value, che lo andiamo a vedere dopo. Intanto, andiamo a fornire liquidità. Ci viene confermata la transazione, importante. Lo confermiamo. Chiaramente, tutte le cose che possono essere anche gestite con Meta, Masco, con Wallet qualsiasi. La piattaforma è nuova, quindi è abbastanza... Ok, in realtà è molto veloce. È stata velocissima. E, scusate, è stata velocissima e abbiamo già fornito liquidità. Quindi, se noi andiamo a vedere adesso... Chiaramente, i cro che ci vengono dati, vanno a far parte, poi, del collaterale che utilizziamo. Quindi vanno a incrementare la posizione di margine. Noi andiamo a vedere che stiamo fornendo 619 cro. Daily earnings sono 0,06 cro, che sono circa 3 centesimi e qualcosa. E possiamo, chiaramente, fare withdraw, quando riteniamo che questa strategia non ci interessi più. E come funziona il lottovaluare? Noi, chiaramente, riusciamo a, per esempio, se ora vogliesi prendere, è quello che farò, 100...200 dollari in prestito di USDC. Dico USDC perché l'API iniziale è vantaggioso, in questo caso, e ci esponiamo soltanto a cro. Perché, come sappiamo, dei coin come USDC, USDT, sono pegate al dollaro, quindi sono stable coin. E non ci esponiamo alla volatilità. Chiaramente, qui siamo esposti alla volatilità, in primo luogo, su cro, perché ci viene fornito l'interesse in cro. Abbiamo messo in liquidità dei cro, quindi cro influisce come valore rispetto al dollaro su tutte le operazioni. che poi andiamo a fare dopo. LTV è una divisione. Cioè, quanto abbiamo preso in prestito diviso la liquidità che abbiamo fornito. Quindi, cosa significa? Significa che, ora, se andiamo a prendere la calcolatrice, vabbè, è banale, lo possiamo anche far senza, comunque, in questo caso, io ho preso 400 dollari. Andiamo a prendere in prestito 200 dollari. Quindi facciamo 200 diviso 400, diviene chiaramente 0,5, moltiplicato per 100, 50%. In questo caso, il nostro LTV è 50%. Cioè, noi abbiamo preso in prestito il 50% del collaterale totale che abbiamo messo in liquidità. Chiaramente, la piattaforma per autoproteggersi ha un massimale di esposizione, che è, lo leggiamo, 80% collaterale al factor. Anche qui ve lo spiego a punto relativo. Significa che noi, ad esempio, se andiamo a prendere la calcolatrice, Allora, come abbiamo detto, l'esposizione è il 50%, ma magari questi 400 dollari di CRO che abbiamo visto, CRO perde il 50%, un po' del suo valore, e invece di, ve la faccio proprio banale, non voglio perdere i calcoli, voglio fare proprio un video, diciamo, corto, immaginiamo che quei 400 di CRO, a un certo punto, valgano 280 dollari. Quindi, gli ha perso molto il suo valore. Lo dividiamo, quindi, questi due, insomma, 280 dollari. Se avete pazienza, 200 diviso 280, ci viene 0,71, che è moltiplicato 100, è un 71% del collaterale al factor. Quindi, siamo vicini alla liquidazione. Quindi, cos'è il discorso? Il discorso è che ora andiamo a fare questa operazione che vi stavo dicendo, quindi andiamo a prendere USDC, come prestito, e vedete che gli interessi, se li rapportate, sono ad ora, perché la piattaforma è stata lanciata ora, molto vantaggiosi, ci spinge a farlo. Come vedete, gli interessi di Borlo sono 3,76%. Ci viene comunque fornito Tectonic, per l'utilizzo appunto, come ho già detto più volte, per il centro di piattaforma, e che, per esempio, 3,65, ci viene fornito di liquidità in più, è molto vantaggioso. Poi vi fate voi i calcoli, se vi interessa, mi vuole fare una prova per usare come usare la piattaforma. Quindi faccio Borlo, in questo caso, e voglio, massimo che fa prendere 293, che è già sul punto praticamente della liquidazione, voglio rimanere basso, voglio prendere 200 dollari, Borlo of Balance. Qui ci fa vedere anche l'esposizione, quanto è rischioso, in che condizioni di esposizione sono, in 200 dollari, che abbiamo detto è il 50%, facendo ha diviso 400, doveva rimanere sotto l'80%. Cioè, bisogna starci dietro, perché bisogna... Ora qui, purtroppo, ho avuto un problema. Comunque, anche in mobilità si può fare bene, chiaramente, se avete un computer, potete farlo anche tranquillamente tramite il computer. In questo caso non ho cro, nel portafoglio. Quindi, mi metto un attimo in pausa, verso il cro, va sempre, bisogna ricordarcelo sempre. Speravo, pensavo bastassero, però comunque un pochino di fissi vanno a pagare, come vedete. e quindi ora li metto in pausa, trasferisco il cro che mi servono per la transazione, e riprendo, scusate, è una prova che faccio con voi, quindi... Ok, quindi, mi raccomando, ricordatevi sempre di verificare che abbiate nel, nel wallet i cro per pagare i fii, nel caso della Kronos, e vediamo che abbiamo chiesto in prestito 200 USDC. Allora, come funziona un'eventuale liquidazione? Scusate. Ah, gli USDC che avete preso, ormai rimangono, in caso di liquidazione, significa che voi andate oltre l'esposizione massima, per esempio, se superate l'80% come limite di esposizione, inizia il processo di liquidazione, ovvero vi mantiene sempre con un massimo dell'80%, andandovi a liquidare sempre di più. La posizione erodendo il collaterale, in questo caso i cro che abbiamo depositato. Nel caso di liquidazione c'è una sovratassa del 10%, mi pare, che quindi conviene sempre intervenire prima di arrivare al punto di liquidazione, significa al punto in cui la piattaforma interrompe l'operatività per non andare in perdita, ok? Quindi ricordiamoci che questa cosa qui, di mantenere il monitorato, e a questo punto, in caso comunque di liquidazione, perdiamo il collaterale che abbiamo messo in liquidità, in supply, e gli USDC ce li teniamo. Per esempio, sempre se rimando nella Cronus Chain, giustamente, potremmo andare a sfruttare WWS Finance, che tra l'altro è un'adapt che mi trovo molto bene ultimamente, anche se è sempre un'esposizione, ricordatevi, di rischio, perché sono piattaforme decentralizzate che offrono, cioè ci sono dei rischi, soprattutto sulle coin, che sono delle utility coin, utility token, tipo WWS, ma anche Tonic stesso, sono coin che tendono a dumpare, anche, soprattutto Tonic, perché appunto, come dicevo prima, ora vi faccio vedere, non è che ci sia un granché, nemmeno come pool, per esempio mettiamo Tonic, cioè Tonic USDC, con un APR del 253%, che significa, che non è lo Yield, ma è il Relative, perché? Perché i profitti, poi qui, noi possiamo in questa pool qui, andare ad aggiungere e togliere liquidità, quindi è calcolato, nel caso in cui la liquidità rimanga costante, ma l'API poi è dato anche da fattori di compounding, fondamentalmente, dell'investimento, se noi andiamo sempre a reinvestire, per esempio, qui vedete, qui ci viene, praticamente, ci vengono dati WWS, se poi noi questi WWS li andiamo a scambiare in Tonic e USDC, noi possiamo andare a versare ulteriori liquidità, quindi c'è un compounding sull'interesse che noi andiamo a riversare ogni volta. Parlerò poi nel video, faccio, farò presto il secondo video di analisi tecnica, in cui vado a enunciare anche tutte le figure, i determinati indicatori e l'operatività di scalping che faccio io, in questo caso Tonic USDC ci espone a Tonic, a me ora non va a dispormi a Tonic con questa cifra e la cosa più sicura da fare per ora, a scopo dimostrativo, poi magari mi vado io a studiare qualche pool di liquidità che può essere interessante, anche per esempio una cosa importante è vedere la liquidità dello staked, in questo caso la cancello qui, infatti quello più liquido di tutti è questo, USDC, USDT che comunque ci si espone a delle stable coin, quindi fondamentalmente siamo esposti solo a CRO e a rischio della piattaforma chiaramente, però abbiamo un EPR interessante per quanto riguarda due stable coin, cioè del 24%, significa che noi andiamo a guadagnare il 2% mensile sui fondi che versiamo qui che sono stable coin, quindi a basso rischio, io voglio metterli qui ora perché intanto vi faccio vedere la prova mettendoli qui che poi li lascio qui, poi andrò a analizzare altre pool di questa DeFi qui per vedere se c'è qualcosa di interessante quindi ora appena avrà ok, chiedere la conferma quindi andiamo ad abilitarlo e chiaramente devo fornire io ho due gente USDC devo vado a versare una quota paritaria e quindi devo comprare 100 USDT 50% chiaramente e lo andiamo a scambiare vi lascio tutto per farvi vedere comunque che la piattaforma la velocità della piattaforma che comunque è molto congestionata perché comunque la CronosChain è nata da poco e facciamo swap inoltre lo confermo ora è passato un po' di tempo e si doveva aggiornare ci mette il tempo che ci mette molto carino comunque la DeFi abbiamo le fee questa volta ricordatevelo sempre mi raccomando e la sensazione sta accettata ora se vogliamo possiamo andare nelle farm abbiamo visto USDT USDC con un onesto 24% andiamo a fare chiaramente andiamo a riempire il token Rp 99.99 ora è la prima volta che lo faccio quindi bisogna sbloccare le coin vi lascio sempre tutto comunque bisogna stare attenti perché faccio questa cosa di stablecoin perché se non andiamo a utilizzare magari l'esposizione ad altre criptomonete volate lì c'è il problema dell'impermanent loss che è una cosa che spiegherò in altri video però fondamentalmente farvi capire praticamente se c'è un gap troppo la pool deve essere mantenuta bilanciata se una criptomoneta magari sale e monte l'altra scende molto per mantenere diciamo il giusto rapporto tra le due coin voi avete una perdita in questo caso non non c'è questo rischio perché comunque le stablecoin sono cioè rappresentano il prezzo del dollaro e quindi abbiamo fatto niente semplicemente andiamo a vedere la dashboard vediamo delle farmse chiaramente con la vvs che l'avevo già l'avevo già fatta io ok stake lp l'abbiamo scambiata quindi max ci dice addirittura annual return of interest al 47 dollari ora io chiaramente ve lo faccio ma non è male perché comunque stiamo parlando del 24% confermo sto provando con voi in realtà per la prima volta e ora chiaramente tanti sono cioè l'impermanent loss il discorso del del borrowing del lending che funzionano così un po' anche tutto l'ecosistema della DeFi anche nella binas smart chain eccetera bene quindi staked possiamo chiaramente aumentare e diminuire l'esposizione a questa pool adesso si se andiamo in dashboard possiamo vedere che ho questo crop vvs che andrò poi a chiudere perché comunque come vi ho detto vvs rischia di se dump fortemente rischia di generare impermanent loss e poi abbiamo questa che sono i soldi presi a prestito fondamentalmente e abbiamo total liquidity 199 dollari e abbiamo e questa cosa qui la provo con voi perché comunque c'è da stamani se andiamo nelle altre tectonic dovremo vedere la maturazione dei tonic che è il token con cui si viene pagato parte dell'interesse comunque questa è stata l'operatività fondamentalmente abbiamo versato 400 dollari come collaterale su cui riceviamo degli interessi perché li prestiamo fondamentalmente a terzi e con questa liquidità lì perché chiaramente non è come il prestito che andate in banca che voi in banca chiedete soldi e fornite contratto di lavoro fornite la casa questo chiaramente è un prestito voi dovete fornire del collaterale in soldi è come andare a chiedere soldi versando soldi però in questo caso noi manteniamo possiamo chiudere il prestito ci riprendiamo i cro e abbiamo sfruttato anche 200 dollari messi in farming su un'altra piattaforma no? è ottimo come metodo di guadagno e in futuro poi per esempio non è da escludere anche nei prossimi anni che magari voi come collaterale potete anche dare un NFT che rappresenta il token della vostra proprietà immobiliare per farvi un esempio quindi voi avete capito che io mentre ero a passeggio il cane adesso sto facendo una passeggiata io così in mobilità ho chiesto un prestito è un vantaggio tecnologico incredibile e secondo me rappresenta il futuro della finale è un'altra piattaforma che è un'altra piattaforma